Ciao, sono Diego, sono uno dei meccanici del Team Sky, felicissimo di essere parte di questo gruppo. Stiamo montando un nuovo porta borraccia che useremo per la stagione 2012, la bici di Stunner. Nuovo porta borraccia, sì, molto leggero, sembra molto consistente, molto robusto, facile da montare. I fori sono molto ben allocati, un bel appoggio anche di dietro, dove appoggio proprio sulla bussola del telaio. Bello, leggero, compatto. Andiamo. Come vedete è stata applicata questa molle che serve per facilitare l'ingresso, ma nello stesso tempo ha una buona tenuta della borraccia in caso di sconnessione col pavé. Questi porta borraccia verranno usati anche per fare le classiche. e vedete è molto facile anche da estrarre allo stesso tempo. Quindi è un buon compromesso comunque positivo. Ciao, sono Jürgen Landry, sono responsabile per tutti gli equipamenti per il BMC Racing Team. Sono il successo di vedere tutti i nuovi prodotti prima. Quindi possiamo testarlo sulle bici prima di andare sulle bici. Come potete vedere qui, è fatto per mantenere la bottiglia in una bottiglia. La bottiglia funziona molto bene, quindi per me è la perfetta attrazione per la bottiglia. Questo sarebbe una buona idea, perché con il nuovo design hai una buona attrazione di una bottiglia. Questo è molto importante per i ritori. Che la bottiglia funziona molto bene, ma anche che la bottiglia funziona molto bene sulle bici. Perché non riesce a perdere una bottiglia durante la rata. La bottiglia funziona molto bene sulle bici. 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 La fornitura del nuovo Evo per la stagione 2012 ci permette comunque di vedere che il montaggio è pratico. Le chiavi hanno spazio sufficiente per poter lavorare. La corsa per telai piccoli e telai grandi è sufficiente. Ha un peso veramente, potremmo dire, estremo. È molto leggero. Leggerezza e resistenza vanno ormai a braccetto e devo dire che questo è un'impressione che questo porta borrace mi dà. Il porta borrace si dimostra molto leggero e nello stesso tempo molto resistente. L'inserto che è stato messo per poter, tra virgolette, aggiustare i diametri delle borrace sembra la soluzione migliore per evitare che queste escano. Vedremo. L'entrata e l'uscita sembra buona, sicuramente pratica, non è difficoltoso lo staccare la borraccia dal porta borraccia, cosa che a volte capitava. Con questo modello sembra veramente risolto. Formato un po' più grande di borraccia, l'inserimento e l'estrazione della stessa è comunque buono. Modello nuovo, vediamo, si scorre bene anche questo, scorre bene sia all'entrata che all'uscita. Forse un attimino un po' più, c'è un attimo l'uscita dal gancio un attimo un po' più difficile, ma comunque non penso proprio che sia difficoltoso. Buona, di acciaio. Anno nuovo, stagione nuova, porta borracce nuovi e devo dire che sono veramente ok. Complimenti. Grazie. Grazie.